Sulla vista Elenco prezzi di un documento di tipo listino o computo è presente la barra delle ricerche, attivabile selezionando la lente di ingrandimento. Attraverso questa barra è possibile ricercare velocemente il testo contenuto nelle descrizioni delle voci. Vediamo come man mano digitiamo la descrizione il cursore si sposta. Cliccando sul bottone cerca successiva il cursore si sposta sulle voci successive che contengono quella parola.